È impensabile che nella tradizione e nella prassi della Camera dei Deputati si possa inserire un argomento completamente disomogeneo rispetto ad una legge che tratta i reati contro la pubblica amministrazione come quella della prescrizione, semplicemente cambiando il titolo dell'emendamento. Questo è impossibile, loro non sanno come fare, se non sanno come fare sospendono i lavori, noi diremmo agli italiani che hanno un problema difficile per loro da risolvere. Immagino che debbano dirimere una questione molto delicata, perché la Lega è contraria a questo annullamento completo dopo il primo grado dei termini della prescrizione, il Movimento 5 Stelle non vuole rinunciare a questa che è una delle loro bandiere, però tutto questo non può passare bloccando i lavori della Commissione oppure facendo finta che un emendamento inammissibile sia ammissibile. Grazie a tutti.